Musica Noi oggi 21 novembre abbiamo festeggiato la festa dell'albero in collaborazione con Lega Ambiente, Passpartout, che coadiuva sempre le nostre attività nonché con MagWeb, di numerose istituzioni del territorio perché appunto il nostro obiettivo è quello di aprirci alle istituzioni territoriali in modo da creare un'alleanza, infatti oggi per noi piantare un l'albero è piantare un albero di cooperazione con il territorio a questo punto quindi stiamo assistendo alla piantumazione di alberi da parte di Lega Ambiente sarà soltanto l'inizio perché il nostro progetto è quello di creare una scuola vivaio quindi continuare questa collaborazione in modo di diventare un punto in cui gli alberi crescono e poi vengono dati alle altre scuole quindi un progetto che ha una valenza da un punto di vista ecosostenibile e ambientale ma anche da un punto di vista istituzionale appunto perché mettiamo le radici di una cooperazione diciamo che grazie all'impresa sociale con i bambini siamo riusciti a portare avanti questo progetto il cui nome appunto è Passpartout all'interno dei nostri laboratori svolgiamo sia delle ore di lezioni di ecologia ambientale e poi la cosa che ci piace di più è quella appunto di bonificare delle zone della scuola per dare ai bambini la possibilità di sentire proprio lo spazio che utilizzano poi all'interno della scuola e renderlo sempre più bello perché la bellezza è anche natura il nostro scopo è principalmente sensibilizzare al massimo i bambini per un avvicinamento alla natura dove non deve essere soltanto la giornata dell'albero quella simbolo per la sensibilizzazione ma tutti i giorni devono trascorrere cercando di evitare all'ecologia ambientale rispetto di quello che ci circonda